Sandro Acerbo, attore doppiatore, direttore, adattatore ai dialoghi. Tra i tanti attori ci sono Brad Pitt e Will Smith. Come hai iniziato? Allora, con Brad Pitt il primo film in cui l'ho doppiato è stato In mezzo scorre il fiume e lui era un pischelletto. E mi ricordo che mi chiamò il grande Cesare Barbetti e mi disse Sandro, questo qua secondo me diventerà uno famoso. Doppialo bene e vedrai che ti resta. Invece per Will Smith è stato diverso, nel senso che io Will Smith non lo doppiavo. Era stato doppiato da altri. Poi arrivò Man in Black e fecero i provini. Io vinsi il provino e da quel momento credo di averlo doppiato a parte una volta o due sempre io. Noi siamo quelli, siamo loro, siamo gli uomini in nero, Man in Black. Lo sai qual è la differenza tra te e Mary? Che io? Vestito così sono uno schianto. Hai iniziato da bambino? Sì. Parlando è uscito che cercavano dei bambini per fare appunto il film La Carica dei 101. Mi hanno chiamato, sono andato e da lì... Papà, perché ti mi hai spento del cammino? È stato lui il primo a spingere. Non è vero! È vero! Non è vero! È vero! Non è vero! È cominciata. Quest'anno sono 50 anni di carriera. Precedentemente ho doppiato anche Michael J. Fox. Mi piaceva il carattere di Michael J. Fox. Cioè era quell'aspetto un po' da Peter Pan, quasi sempre bambino ma che non era un bambino, sempre divertente, sempre divertito. Mi accomunava di più al suo carattere, ecco. La gente ti riconosce quando parli? Non mi si fila nessuno. Hai mai incontrato uno degli attori che hai doppiato? Sì, ma incontrati, piacere, ciao Sandro Acerbo, piacere Brad Pitt, no. Ci saluti alla Brad Pitt. Ah, alla Brad Pitt. Ciao ragazze, vi aspetto.